ciao ragazzi un saluto al nostro grinone bentornati sul canale sì lo so che è un po di tempo che non faccio video come sempre ero occupato sono tornato a lavorare avevo uno e vento ero pieno fin sopra i capelli di lavoro per cui adesso con calma ho tempo facciamo le cose fatte bene come piace a noi torniamo a parlare di maglie prima vi ricordo sempre di seguirmi signori su instagram green trattino basso sbarba che tutte le mie minchiate le pubblico anche lì mi raccomando green trattino basso sbarba instagram oggi ci vediamo un bel po di roba arriviamo anche a parlare di inter di milan di juventus eppure di roma ma oggi ci vediamo un bel po di chicche a cominciare cari miei dalla maglia fuori casa dell'arsenal che dovrebbe essere questa e non è la maglia del vostro macellaio di fiducia signori così sembra una maglia bianca proprio come traveson come grembiule traveson in dialetto veneto non la travessa come grembiule del macellaio sporco di qualche schizzo sai dell'attività giornaliera quotidiana del macellaio in realtà signori non è così nessuno né l'una né l'altra perché non è bianco ma dovrebbe essere un colore un po crema molto molto blando e quelle cose rosse che voi vedete non sono no schizzi di sangue ma non è una cosa che adidas ha spiegato però hanno trovato questa spiegazione dovrebbero riprendere le venature dei marmi che si trovano all'interno della marble hall che è una sala all'interno dell'e stand del vecchio stadio di ivory l'ex stadio dell'arsena perché come sapete ora giocano l'emirate stadium quindi dovrebbe andare a riprendere questa cosa qua ora io non so se i designer si fanno regolarmente di lsd prima di andare a lavorare o se si trogano di più quelli che vanno in cerca cioè quasi come i complottisti no a trovare un motivo dietro certe cose fatto sta che questa è una maglia fuori casa e ha una grafica da terza maglia possiamo dirlo non che sia brutta ma è da terza maglia passiamo ora alla prima maglia la maglia in casa del borussia dortmund che è già uscita e mi dispiace dirvelo ragazzi non è affatto ispirata al pokemon electabuzz no non è così qua in questo caso puma invece ha spiegato qual è il motivo dietro che sta dietro l'idea di questa grafica no così elettrica possiamo definirla e questo questo design queste forme no così sai tanti nere su fondo giallo stanno a rappresentare cioè traggono ispirazione più che stanno a rappresentare dalla west fallen allen stazione che è la stazione della metro fondamentalmente di dortmund considerata come il primo passo che fanno i tifosi per raggiungere lo stadio in questa stazione dovete in questa stazione dovete sapere che c'è una gigantesca bussola dipinta sul pavimento in sostanza ed anche un'architettura particolare e proprio dalla bussola attrae ispirazione la maglia c'è la maglia siri fa come lo avete capito insomma grafica che ci sta siamo un po' abituati arborussia dormund che ha delle maglie molto particolari andiamo a vederci anche la seconda maglia perché anche questa è molto particolare in quanto puma ci presenta questa maglia nera con questa fascia obliqua gialla che parte dalla spalla sinistra arriva fino al fianco destro interrotta dal logo del club e dal logo dello sponsor come vedete sulla parte inferiore si dal centro no inferiore verso sinistra ci sono questi disegni stile graffiti che ripetono costantemente la scritta bvb che sta ovviamente a indicare il nome del club anche questa molto particolare il mio giudizio è che non è proprio il mio stile mi sarebbe piaciuta forse di più vedendo questi disegni così graffitari su tutta la maglia piuttosto che solo su un fianco ma più che altro avrei voluto vedere un po' più di varietà nelle scritte qua fondamentalmente ne abbiamo due e non di più per cui è un po' monotona insomma non mi piace tantissimo a voi nei commenti un giudizio su questa maglia da bomboletta scuscu signori ritorniamo in in guilterra è quasi l'ora del tè quando ci viene presentata la maglia fuori casa del celsi e che dire che dire questa palette di colori sul blu azzurro il blu il colletto avu le maniche abbiamo anche dettagli sui fianchi doveva esserci la scritta pride of london l'orgoglio di londra il monocromatico per quanto riguarda i vari loghi posizionati sponsor tecnico sponsor principale sponsor di spalla club insomma più che monocromatico siamo sempre su questi toni di blu ed azzurro e questa grafica di fondo con queste lineette no oblique anche qui un po' azzurro topo potremmo definirlo e blu che non riesco a capire se vanno più a simulare la zigrinitura la zigrinatura perdonatemi di qualche pannello metallico o una sedia di vimini intrecciati fatto sta che mi sembra un pigiama più che una maglia da calcio non so voi ma questa è proprio brutta bisogna dirlo e ora ritorniamo in germania perché è uscita anche la prima maglia del lipsia signori e dopo molti e molti anni di grafiche interessanti per la prima volta mi trovo in disaccordo con quanto nike ha prodotto per il lipsia non che ci troviamo di fronte a un qualcosa di incredibilmente scioccante perché come vedete voi a guardarla da di fronte è bianca con il colletto rosso con il logo di red bull in mezzo il logo del club è stato recentemente rivisitato un po' ridotto nelle cose un po' più minimal il problema qual è mi direte cazzo grina maglia bianca i fianchi signori i fianchi che hanno questo specie di questa specie di fulmine che già abbiamo visto in qualche altro kit ma che qui non ha solamente la linea centrale ma anche queste linee laterali sfumate di diverse dimensioni di colore rosso giallo intervallate dal bianco mi danno dell'idea di vedere la confezione di un panino del burger king cioè ve lo giuro mi dà proprio quella sensazione là ed è una cosa che mi dà un fastidio allucinante non ci siamo per niente a mio modo di vedere proprio assolutamente ragazzi no e poi no e ora e ora signori e ora cominciamo 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 l'inter è così confusa da colpirsi da sola potrebbe essere la descrizione no della nuova maglia ormai l'avete già vista tutti noi ne avevamo già parlato tempo addietro ora è ufficiale da un paio di giorni se non qualcosa di più la maglia nera azzurra con le strisce zig zag ebbene signori per chi ha già visto l'altro video saprete già che a me questo design non è che dispiace tantissimo ne abbiamo visti di peggio non so se vi ricordate o se avete rimosso e se li avete rimossi mutate questa parte del video perché io non voglio assolutamente farvi avere di nuovo gli incubi con il zessato nera azzurro o peggio ancora il codice a barre nera azzurro che abbiamo visto in passato un passato recente davvero brutto il problema è il problema è anche che il club ragazzi ed è questa la cosa che mi dispiace perché l'inter ha una media company che segue no tutte le intermedia house che segue la comunicazione che generalmente fa bene le cose qua secondo me la maglia l'idea che c'è dietro la realizzazione della maglia è stata proprio non spiegata buttata line un comunicato stampa e nulla più già sappiamo che la gente non legge perché vede lì ma è già tanto che vedono ancora le immagini le persone e riescano a fare qualche passaggio neurale dall'occhio al cervello con quello che vedono quello che c'è alla base del design di questa maglia è il trarre ispirazioni da un movimento artistico post moderno della tribal pop che è di milano quindi non neanche tanto italiano ma milanese in un periodo in cui ragazzi l'italia che è sempre stata la culla dell'arte diciamo che dal futurismo in poi non è che abbiamo visto chissà che numeri di artisti come eravamo abituati in precedenza ed è stato un movimento che tra l'altro ha influenzato quindi non solamente artistico ma che ha influenzato anche l'architettura ha influenzato anche in parte la musica la televisione possiamo dire un po quello che era anche lo stile di vita di quegli anni quindi una cosa importante e è stato scritto praticamente ispirata alla tribal pop degli anni 80 di milano e ciaone così cioè no non si fa cioè fai qualcosa un po di più nei video che mettete fai una chicca proprio così se tu la spieghi meglio è chiaro che la gente la può anche digerire non sta a scrivermi una puttanata e dopo dirmi e zig zag perché riprende anche il biscione che già la gente è in buona parte ignorante di suo e quindi che poi lasciamo perdere comunque per quello che mi riguarda l'anno prossimo ci vedremo anche il primo sponsor di manica che adesso non mi ricordo quale sia intercom una roba del genere media com non so che cazzo se va bene una roba insomma una roba c'è uno sponsor di manica sulla maglia dell'inter poi media sarà bianco anche se il logo a due colori ma sarà bianco probabilmente ultimo anno sarà quello di pirelli vedremo cosa succederà in seguito colori sono giusti la forma zig zag secondo me indossata ai giocatori non è neanche brutta ci faremo l'abitudine ripeto ho visto di peggio e quindi riesco anche ad abituarmi a questa cosa qua insieme alla prima maglia potrebbero essere stati spoilerati i caratteri del nuovo font della serie a che se non lo sapete finalmente uniforma numeri e nomi su tutte le maglie di tutte le squadre quindi ci troveremo dopo arrivati dopo i fuochi come si dice sempre dalle mie parti ad avere tutte le squadre con lo stesso font e gli stessi caratteri per numeri e nomi ragazzi non ce la faccio oggi perdonatevi che è quello che vedete attenzione però questo potrebbe anche essere invece il font che l'inter utilizzerebbe utilizzerà scusatevi nelle competizioni europee quindi champions europa quello che sarà alla fine mi tocco sulla champions league mi tocco quindi non potrebbe non essere quello della serie a ma un font personalizzato per le coppe staremo a vedere insomma è già comunque un grande passo quello che ha fatto la serie a l'uniformità che è una cosa il minimo e vabbè fatemi sapere cosa ne pensate se questo fosse il font della serie a io devo dire che abbastanza carino leggibile poteva anche qua conoscendo la serie a esserci qualcosa di ben peggio cosa non capisco invece signori è questa cioè la seconda maglia dell'inter con questo design cerco di andare un po più veloce design da tovaglia da picnic della domenica in mezzo ai campi appena concimati con questo colletto a v tra l'altro neanche staccato giusto in mezzo con nero e l'azzurro ma poi ho tranciato così un po spostato chi se ne frega ste line che si incrociano ragazzi cioè dovesse essere io se vado al supermercato dove cazzo vai a comprare una tovaglia e tra tutte le tovaglie ne trovo una fatta così già mi fa cagare come tovaglia figuriamoci come maglietta io spero spero veramente che questa volta con i leak non ci abbiano azzeccato perché dopo e zigzag non oso immaginare come potrebbe reagire la gente ad una cosa del genere restiamo in quel di milano e parliamo invece della maglia del milan la maglia in casa anche qua è uscito qualche leak qualche immagine io vi riporto sempre quello che c'è di più simile come ben vedete stile classico perché abbiamo le righe verticali rosso nere ma il particolare è questa trama che nelle immagini si vede solamente nella parte nera della maglietta ma sarà anche sulle fasce rosse e sempre per la storia di puma no crafted from culture la l'ispirazione di questa cosa è il pavimento del duomo di milano io credo che questa potrebbe essere veramente una maglia molto ma molto ma molto bella bisognerà vedere poi in fase finale di realizzazione quanto pesante quanto all'occhio salterà la trama perché deve essere una cosa ben bilanciata quindi col giusto bilanciamento di trasparenze potrebbe essere una delle più belle maglie del milan degli ultimi anni a mio modo di vedere come sempre milanisti non ben cazzate via de milano si va verso ovest si va verso torino non so cosa stavo facendo così con le mani sto perdendo l'equilibrio e sono seduto torino juventus che ritorna no un po indietro un po indietro questa dovrebbe essere la maglia in casa prossima della juve notiamo sempre questa tendenza a riversare dell'oro fin quando si può come a dare un valore aggiunto no alla maglia del club quindi le tre stripes di adidas sui fianchi dorate il logo di zip dorato il logo del club dorato il logo di adidas dorato scelte che io posso condividere perché insieme a due colori come bianco il nero il loro sta molto bene però una cosa che si è vista spesso no sembra quasi un proprio più una forzatura comunque sulla maglia ci sta ritorniamo alle classiche righe per modo di dire in quanto il pattern perché sapete che io devo dire ogni tanto un monocromatico pattern design altrimenti non è una reaction sui kit stavo dicendo con queste pennellate abbandoniamo l'obrobrio della stagione 2019 2020 poi ci lamentiamo che è arrivato no quello che è arrivato ma d'altronde la juve ha presentato delle maglie del genere cosa potevamo aspettarci in questo 2020 potrebbero arrivare gli alieni a rapirci fra qualche mese si ritorna indietro con questo stile un po più moderno quindi sempre magari in un'ottica dovesse essere questa poi la versione finale della maglia giovanile no diciamo un po trendy con un occhio sempre al commerciale devo dire sinceramente che a me piace ora ragazzi chiudendo vi do invece altre due notizie così una che riguarda il milan che abbiamo visto prima ovvero milan che ha concluso un accordo di partnership con rock nation che come sapete se non lo sapete ve lo dico adesso l'agenzia di comunicazione fondata da jay z signori quindi tanta roba si occuperà leggo un po gli appunti che mi sono preso perché a memoria non riesco più ormai a gestire tutto perché sono bruciato il cervello di gestire il brand milan attraverso lo sport e l'intrattenimento lifestyle signori anche seguendo operazioni nel mondo della filantropia nel mondo della musica collaborazioni per il merchandise quindi potrebbero esserci delle chicche futuro per i tifosi del milan strategie digitali vendite commerciali e anche eventi culturali eccetera è un'ottima mossa secondo me questa da parte del milan per quanto riguarda no la brand awareness no l'aumento dell'importanza della fama non che non ne abbia ma chiaramente poi i risultati vanno un po a far scendere quello che è la pin del club queste operazioni sono quelle che iniziano a far distinguere i club da quelli di livello top a quelli normali per cui davvero complimenti al milan per questa cosa restando in italia invece altra notizia che ho messo anche nel titolo del video la roma parrebbe secondo il corriere dello sport quindi il giornalismo italiano non so quanto ci sia da fidarsi presumo poco a nome del CEO Fienga e del CEO Calvo sarebbe scontenta di quello che è l'accordo che hanno attualmente con lo sponsor tecnico nike accordo che è stato siglato nel 2013 prevede 4 milioni di sponsorizzazione a stagione ha anche dei malus per quanto riguarda la non partecipazione alla champions league da parte del club ed è un accordo che se non erro dalle informazioni che ho preso è stato già rinegoziato ad ottobre 2018 perché la società acquisito fondamentalmente un'azienda americana che si occupava di produrre lo stock ufficiale del materiale della roma nella rinegoziazione la roma deve aver ripreso controllo di quelle che sono le reale le revenue 1 ovvero i diritti commerciali sul sui prodotti adesso ragazzi io non so sta cosa qua sinceramente questo è un rumor notizia che è venuta fuori così dal corriere dello sport ma è stata riportata anche dai vari siti che io guardo per le informazioni sui kit eccetera la mia idea è che in questo periodo in cui anche le aziende che producono capi di abbigliamento tecnici quindi nike adidas eccetera soffrono perché come in tutto il mondo c'è crisi dovuta a quella che era situazione di questi mesi la vedo molto difficile che un club come la roma possa spuntare degli accordi commerciali di partnership con magari altre aziende che siano migliori di quello che attualmente hanno alla luce soprattutto di quelli che sono per lo meno per adesso i risultati del club non so cosa ne pensate voi ditemi nei commenti se siete tifosi romanisti magari quale marchio vi piacerebbe vedere produrre no l'abbigliamento tecnico per la roma a me piacerebbe vedere magari qualcosa che in italia non c'è tipo che ne so under armor oppure new balance potrebbe essere delle cose interessanti credo di aver parlato abbastanza per oggi questo video deve essere un po lunghetto per cui vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto vi ricordo sempre di seguirmi ovunque twitter e instagram ci sono i link in descrizione lasciatemi piace iscrivetevi al canale se non siete iscritti noi ci vediamo al prossimo video signori mi raccomando qualità ciao belli